È in località Tavernola, a Battipaglia, che sarà necessario adeguare l'impianto di depurazione rinnovato al trattamento dei fanghi e alla gestione dell'acqua piovana. Nel frattempo arriva un'altra autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui nel fiume Tusciano. L'area tecnica comunale l'ha rilasciata a Cecilia Francese. Nelle scorse ore il provvedimento scadrà il 28 febbraio del 2019, come stabilito dal dirigente tecnico Carmine Salerno. La licenza fa seguito a due autorizzazioni provvisorie in deroga. La prima, rilasciata a marzo del 2017, che prevedeva scariche eccezionali fino alla fine di novembre scorso. La seconda, varata a dicembre, sarebbe valsa fino al 28 febbraio. La prima, rilasciata a marzo del 2017, che prevedeva scariche eccezionali fino alla fine di novembre scorso.